A poche settimane dal Natale i volontari assemblano la capanna del tradizionale presepe davanti alla Basilica di Loreto. Le statue a grandezza naturale ci saranno, nonostante il magazzino sia stato preso d'assalto dai vandali. L'episodio risale a inizio settembre, quando un gruppo di teppisti aveva fatto eruzione all'interno dei locali dove i pupi vengono conservati. Un vero ride con tanto di coriandoli per scherno, i remagi completamente distrutti, il braccio di Gesù Bambino staccato, decine di pecore gambizzate, qui alcune statuine valgono più di 2000 euro, il cammelliere del 1920 raccontano ha passato le guerre e non i vandali. Dispiacere, dispiacere perché non c'è senso, non si riesce a collegare i perché, per come, non si trova una motivazione, non c'è chiarimenti e cose varie, proprio un... non ti dico che ti arrendi però... Ad avere la peggio, il presepe tradizionale della Santa Casa, visitato da turisti e pellegrini da cento anni, su un tavolo i resti delle statuine che un tempo facevano parte del presepe più antico di Loreto, la regione Marche, nelle scorse ore, si è detta pronta a risarcire il danno, qualora il comune o l'associazione ne facesse richiesta, parola dell'assessore alla cultura Chiara Biondi, dopo che il caso è finito in consiglio regionale. Loreto e tutti i loretani apprezzeranno fortemente questo bel messaggio che arriverà dalla regione Marche.